...ufficio della telecomunicazione... ...BDT... ...BDT... ...presto questa stessa stessa... ...la fai già le foto... ...sola dalla sala... ...se parte ancora... ...encore... ...je salue la venue... ...au congrès... ...évidemment... ...de... ...Guido Crapanzano... ...rectaire... ...de... ...institut... ...international... ...de sciences... ...de la communication... ...et de... ...Giorgio Appiano... ...qui... ...directaire... ...du même institut... ...directaire commerciale... ... 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 La prima parte della sua exposizione, ora è la seconda parte, e magari la terza parte della sua exposizione. Non ne sappiamo cosa la nuve va apporter. Ora proseguiamo. Grazie. A d'autres orataires, chacun può le formulari per qui, o al momento venuto, oralmente. Grazie. Ieri l'ho dato. E quello l'ho dato ieri. Ti ho dato ieri. È lo stesso testo. E l'ho lasciato in libero, perché non so se avessi fatto. No, no, no. E' lo stesso di ieri. E il è stato engagato a tenere dei corsi in Danmark, a Copenaghen, concernant la chiffre matica, e quindi è stato engagato anche a assurare la traduzione dei scritti di chiffre matica. Allora, io le passo la parola a Ove Petersen. Io ho parlato hier su un certo modo di leggere la filosofia, e oggi, io ho parlato di un certo modo di leggere la letteratura, sulle le questione dei formi della verità. Comment s'introduire le lieu della verità? Io credo sincermi che la migliora critica è quella che sia divertente di leggere la verità. Non come dice Baudelaire. Non come dice Baudelaire. Non come dice Baudelaire, che il pretexto di tutto explico n'è ni haine, ni amore. C'è dire che l'explicazione del Savo è una maniera di cercare di evitare sia la haine che l'amore. La verità è poética e la poesia è su condizione in la haine delle amore. Di questa critica poética o il migliore contro un capitolo può essere un sonore con un elegice come Baudelaire le fa lui-même eccetera. La critica su Baudelaire non è non la benvenita critica di la peintura o di la poesia che ha per funcione di conduire la storia della politica che ha il messaggio, la formazione sociale, la biografia, le strutture immanente, ecc. o di dare un'opinione sui le vero e l'effetto, nell'arte e nella letteratura. Ma la critica potteria è già in una poesia. Non si tratta di spiegare tutto, ma, ancora invece, prendere un punto di partenza con una critica che non è un taglio. E con questa copia pure si installano le due funzioni della poesia, la haine e l'amore, e con questo taglio si stanno le due funzioni della poesia. Baudelaire lo dice un punto che non appartiene a sapere. Un punto esclusivo, Baudelaire lo dice, la critica deve essere partiale, appassionata, politica che è parte da un punto di vista esclusivo, ma dal punto di vista che appreva più horizonte possibile. Come la critica poética di Baudelaire, si delinea un pensiero che evita i due scogli dell'obiettività e della subiettività. Non è possibile ridurre la verità, né l'obiettività di un sapere, né la subiettività di un opinione. Contro l'obiettivazione della verità, contro la concezione della verità, come qualcosa che sia già là, immuabile, che ci sia già, che sia immutabile, in attesa del sapere vero, Baudelaire si collina nel tempo che io ho citato, che il pensiero deve essere partiale, appassionato, politica. E tutti questi più indici che la pensi ha questa condizione nella funzione, nella dualità della funzione, nell'obiettività della funzione, nell'obiettività e nell'obiettività, cioè nel due come ciò che appreva le forme della verità. Ma, nell'obiettività del sapere, c'è sempre il rischio di cadere in opinioni subiettività relativistiche come un testemone sui appuntamenti, più abbondantemente l'ultimo secolo. Per cui Baudelaire, sull'insistente sui relazioni tra la verità e il soggetto, souligna che non è sufficiente che il punto di vista sia esclusivo, ma che è necessario che il punto di vista sia l'obiettività. Con queste Baudelaire, con quella che può dare la critica politica, non si tratta di dare le loro opinioni su qualcosa, ma che è tanto di aprirsi, e più precisamente di aprirsi quanto più possibile. Ma la cultura non è qualcosa che è possibile misurare, perché non è possibile aprire più o aprire meno. Con questo più si tratta non di una quantità, ma di una qualità. Per citare o per ricettare un'ultima volta il testo di Baudelaire, che io prendo quel punto di partenza, e gli dice che il meglio critica, c'è la critica che si scrive e partiene dalla persona, non è algebrica, non è inattura in più, ma è altro. E questa altra cosa si scrive nel luogo di maquillaggio. La haine e l'amore si scrive nel luogo di maquillaggio come il luogo e il ruolo, e con il luogo di luogo di luogo, possiamo prezziare che con il luogo di luogo di luogo di luogo di luogo di luogo. nel cielo, nel luogo di luogo di luogo di luogo di luogo di luogo di luogo. Il rosso e il nero rappresentano la vita, una vita soprannaturale eccessiva. Questa fornice nera rende un luogo più profondo e più singolare, da allora all'occhio un'apparenza più decisa di finestra aperta sull'infinito. Questo è il passo di Baudelaire. Rituriamo qui sia la natura sia il più profondo, più singolare e più decisa. E ogni volta si tratta di una qualità dell'infinito. L'infinito della critica poetica. L'infinito della parola. La nostra poesia. Il maquillage come peintura del volto. La nonna come artista. Io, Baudelaire, mi accontenterei di chiamare i veri artisti, come le dimenti che hanno ricevuto il suo fogo sacro, come le dimenti che hanno ricevuto il suo fogo sacro che ha il suo fogo sacro, il suo fogo sacro che ha il suo fogo sacro, cioè la parola. La critica poetica potrà descrittere come un sonno, come il sonno di Baudelaire, corrispondente, come il sonno di Baudelaire, come il sonno di Baudelaire, come il sonno di Baudelaire, con un esame construzione. Il sogno di Baudelaire con il m e, con un N majuscule, la natura è due, e anche la natura e la natura, si trugge la natura con il m è maiascule. La natura con un N majuscule, è tre, perché nella natura finita, Il guardo è sempre fiume, e una scienza che si fa in grado di questa natura se condamna a ne mai rencontrer la verità. Non c'è verità nella natura, e c'è perché il faut construire qualcosa di artificiale un tempio per capturare il guardo che fiume. E per questa captura se donna la possibilità per l'occhio di ascoltare le parole della natura con la maiuscola. La natura è un tempio in cui l'espoirà sortire di confusi paroli. Le parole sono confusi avant che l'écoute s'entrae, avant che le sonne si rupondano. Ma in questa conversazione, tra le papà, le colore e le sonne, le cose non existono più nella natura, nella natura finita con la maiuscola. Perché le cose entrano nella natura dove, avendo l'expansione delle cose infinie, le parole non sono più confusi, ma non sono più confusi. Ma in questo modo, non c'è niente di alberi. Non c'è niente di alberi, non c'è niente di alberi, non c'è niente di alberi della natura, Non possiamo dire che, con Baudelaire, abbiamo formulato un pensiero che era il gesto originario della filosofia. Con Baudelaire, abbiamo formulato un pensiero che era il gesto originario della filosofia. Le flore du male non sono fiori della retorica. Non mancherà loro un caso da un mazzo di fiori, Comunque non c'è il motivo per postergare la question di dove sono le fiori, ど sono le fiori, dove sono le fiori. Non quando il piatto riprende le domande che sono le del NO di prima del Rinzello, qui vengono le nasce, da dove vengono le fiori e dove vanno, perché le fiori non existono solamente nella struttura della logica della parola. Il n'est donc pas possible de penser la topologie de la jointe, ou le deux, à partir des binarietés, dehors des dents, vrai, faux, être non-être, etc. Ma in cambio, è possibile pensare la topologie partendo da un double regetto. Il faut rejeter une conception de la pensée comme quelque chose qui se passe en dehors de moi. Une conception, comme je voulais nommer, une conception que je voulais chiamare un pensée mitique parce qu'elle se manifeste principalement dans l'animisme, dans la magie et dans la mitologie realistique. Bien qu'il s'agit d'une catégorie, on peut dire que cette pensée mitique a été dominante jusqu'à la première renaissance. Mais il faut aussi rejeter une conception que je voulais nommer une pensée mentale parce qu'elle se manifeste principalement avec la distinction entre un espace extérieur et une espèce intérieure, comme le lieu de la pensée. Bien qu'il s'agit aussi d'une catégorie, on peut dire quand même que cette pensée mentale a été dominante jusqu'à l'avènement de la psychanalyse. où Freud, avec le concept de l'inconscient, a essayé de formuler une nouvelle conception de la pensée. Mais Freud a eu de grandes difficultés en formulant une pensée qui ne soit pas le tributaire de l'espace et ses représentations. Il s'est heurté à la question du temps. Ce n'est qu'avec la réinvention de la psychanalyse dans la deuxième renaissance et avec l'insistance de Romain de la Diône pour que la pensée s'écrie dans le temps, que ses expulsions ont trouvé leur lieu dans la parole infinie. Les différentes notions de l'espace qui ont été fondamentales pour définir aussi bien la pensée mutique que la pensée mentale ne fonctionne plus. Avec le tout rejet, s'introduit une nouvelle conception de la pensée que je voulais nommer une pensée intégrale parce qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle étape, mais d'un autre mode de lire et de dire, de faire et d'écrire. À partir de la pensée intégrale de la deuxième renaissance, la pensée mutique s'écrit comme l'art et la pensée mentale s'écrit comme science. La vérité de la pensée intégrale se donne toujours entre l'art et la science. La vérité n'est donc ni terreur ni dedans de la pensée intégrale. Avec l'art de la deuxième renaissance, il y a non seulement des œuvres, mais aussi autre chose. Et avec la science de la deuxième renaissance, il y a non seulement des résultats de la recherche, mais aussi autre chose. Entre l'artiste et le scientifique, il y a l'intellectuel. Et la pensée intégrale se donne à partir de la jointure de l'artiste, du scientifique et de l'intellectuel. L'art est deux. Il y a deux bords. Le travail de l'artiste et de l'écriture de l'intellectuel. La science intégrale est deux. Il y a deux bords. Il y a deux bords. Il y a trois bords. Il y a Andre, le scientifique, la littBlue Maxence ? Et la pensée intégrale est deux. Il y a deux bords. Il y a deux bords. Slate et la science. Grazie. Est-ce que Tony Brachet è nella sala? Vi chiedo se Tony Brachet è nella sala. Mentre noi siamo all'intervento del filosofo italiano Vittorio Mathieu. È venuto a Tokyo e l'altro giorno a Parigi e a Roma e in vari altri incontri internazionali. Il nostro libro ha pubblicato molti libri e articoli. Alcuni libri sono pubblicati anche da spirali. Comunque le sue pubblicazioni sono a livello internazionale. Ci sono due o tre filosofi nel pianeta che abbiamo molto interesse a ascoltare. Vittorio Mathieu è uno di questi e Berlino gli passa la parola. Etica e politica sono due termini che dovrebbero sostenersi l'un l'altro e che per contro nell'età moderna si direbbe che divergano sempre di più. Nell'antichità non era così. Nell'antichità la politica era in certo senso la virtù somma, come dice Aristotele, e il suo scopo era precisamente quello di permettere lo svilupparsi delle virtù, cioè di quelle che noi chiameremo un'etica. delle virtù come efficienza eccellente, per così dire, la rete greca ha un senso di efficienza e di eccellenza insieme. Invece nell'età moderna, questi due aspetti della nostra vita, l'aspetto sociale e l'aspetto individuale, sembra che vengano inevitabilmente a confliggere. Non soltanto di fatto, questo può capitare sempre e sempre è capitato, che il tiranno, come dicevano i greci, cioè lo strong man, diciamo noi, anziché perseguire il bene dei suoi sudditi, perseguisse apparenti vantaggi egoistici. Platone si impegna molto nel dire che sono vantaggi apparenti, intanto che reali. Ma nell'età moderna si direbbe che etica e politica divergano, anche in linea di principio, non più soltanto di fatto, per un difetto degli uomini, ma per una quasi incompatibilità dei concetti. Io non sto a fare la storia, non tanto di Machiavelli, come ha mostrato Versiglione, quanto i luoghi comuni che ci sono instaurati su Machiavelli, per fare proprio di lui quali che divise una volta per tutte questi due concetti. Ora credo che il nostro compito, nel senso della nostra età, sia quello di far convergere di nuovo questi concetti, ma non certamente con prediche moraleggianti, perché questo avviene di continuo, ma non ha nessun risultato, di predicare ai politici o agli imprenditori che non devono dimenticare le ragioni della morale e così via. Non si tratta di questo, si tratta di trovare o ritrovare il mezzo tradizionale per far convergere etica e politica e di farlo lavorare, di far sì che ottenga quei risultati che dovrebbe ottenere. Se non li ottiene, è perché probabilmente il suo concetto stesso si è corrotto con l'andare del tempo. Questo mezzo, a mio parere, è il diritto, qui nel titolo si dice la loi. La legge è ma intesa non semplicemente come una volontà del più potente, ma intesa precisamente come un mezzo per mediare sempre problematicamente, ma con possibilità di miglioramenti e di adattamenti, per mediare tra le esigenze di libertà del singolo e le esigenze di libertà di tutti gli altri, e quindi anche per mediare tra l'etica, l'etica in senso positivo si sviluppa nella libertà, è creazione quando è libertà nel suo senso eminente, ma quel rapporto necessario che abbiamo con gli altri, senza il quale la nostra libertà non si concreterebbe neppure come libertà interiore, anche chi si ritira dal mondo nel deserto o nei conventi e così via, in realtà è fortissimamente in rapporto con gli altri, e in questo rapporto si concreta. Ora, la legge sembrerebbe che non abbia più questo effetto, e per riferirci a una situazione contingente, ma incombente direi, sui nuovi italiani, ma che non è poi tanto lontana, ahimè, anche da altri popoli, basta osservare come, per esempio, Mauro Mellini, non so se si abbia già parlato o sia per parlare, parli in Italia di un partito dei giudici, allora questo partito che cosa dovrebbe fare? dovrebbe effettivamente mediare tra la libertà dei cittadini e l'esercizio del potere, se fosse veramente un partito dei giudici. però non so che cosa pensi, ben lì, ma mi pare di capirle. Questa mediazione non avviene. Non avviene perché? Beh, non darei la colpa ai singoli, darei la colpa piuttosto proprio a una corruzione del concetto di legge, di cui i giudici dovrebbero essere gli interpreti, e che in realtà si è perduto. Per cui, quando i giudici cercano di svolgere questa loro funzione, anziché fare ciò che dovrebbero, fanno troppo, diciamo. Quando gli organi si ammalano, mettiamo il fegato si ammalano, cosa va, se c'è ne troppa bile, e il legislatore da un lato, il magistrato dall'altro, oggi se c'è ne troppo diritto, ma evidentemente il diritto cattivo. Quale potrebbe essere la ragione di questo? A mio parere, la ragione di questo sta precisamente nell'aver misinterpretato, interpretato male, la legge come un enunciato di volontà, come se la legge fosse tale, perché così vuole chi detiene in quel momento il potere. Chi detiene il potere ha il dovere di far valere la legge, di instaurarla, e di ottenere per quanto possibile che i cittadini obbediscano. E qui interviene senza alcun dubbio la volontà. Ma sul contenuto, su ciò che la legge prescrive, se la legge è conforme al diritto, la volontà non ha nessuna influenza. Diceva l'Aibis come non ha influenza sul fatto che il quadrato di due sia due, o sia quattro, e così via, il quadrato di uno sia uno. Cioè, come sulle verità matematiche non influisce la volontà del matematico, così diceva l'Aibis che ha pure per i pergoli, la volontà del legislatore non influisce sul contenuto del diritto, ma soltanto sulla instaurazione di fatto del diritto. Però che questo equivoco sia sorto e si sia sviluppato tanto da diventare un modo di pensare preponderante. Ora faccio un inciso. Pensiamo a un liberale come Benedetto Croce, il quale diceva che le leggi si distinguono dall'enunciato particolare quale può essere un bambino che dice voglio bere, supponiamo, soltanto perché sono ordini generali che si rivolgono a una generalità di persone e comandano una generalità di comportamenti. Allora, per riassumere questi ordini e rendere più pratica e più economica la loro enunciazione e più facile l'obbedienza, si ricorre al dettato della norma che vale per tutti i membri di una certa categoria, per tutti gli individui di un certo insieme. Però il contenuto di questa leggi sarebbe semplicemente la volontà. In altri termini, il croce, come tutti i stanno, è un negatore di quello che si chiamava diritto naturale. naturale non vuol dire naturale nel senso della natura fisica e neanche della natura biologica, ma naturale nel senso della natura delle relazioni sociali. E quindi anche artificiale, ma come artificio che interpreta la natura. Questo concetto di legge dunque è molto diffuso dal momento che e caratterizza anche il pensiero di persone che sono considerate e sono per certi altri aspetti liberali. Ma a mio parere è deleterio per la libertà. Perché la libertà viene ad essere semplicemente una concessione casuale all'interno di un certo insieme di norme che sono invece in posizione. La norma giuridica non è più uno strumento di libertà per garantire la libertà, bensì per imporre una volontà che può solo per accidente coincidere con quella dei singoli, con qualcuno dei singoli. Questo equivoco non è infondato, non è soltanto un errore. Purtroppo questo equivoco, o non purtroppo, perché fa parte anche della nostra situazione umana l'avere queste difficoltà in qualche modo insuperabili che ci mettono alla prova. Questo equivoco nasce dal fatto che c'è un'antinomia interna allo stesso diritto. Cioè quando noi parliamo di diritto pubblico, parliamo quindi di Stato, parliamo di qualcosa di analogo, questo diritto non è, anzitutto, non coincide con la forza, come abbiamo detto, non coincide con la volontà del più forte, altrimenti non ci sarebbe nessuna ragione per distinguere il giusto dal reale, per distinguere il diritto dalla forza e così via. Non ci porrebbe il problema, ma il problema invece si pone. però questo diritto ha bisogno anche della forza, il diritto pubblico. E' quello che certi giuristi, che risvegono e d'altro, hanno chiamato principi di effettività. Se un, poniamo un sovrano, il sovrano può essere un uomo, può essere anche un popolo, un'assemblea, quel che si vuole. Se un sovrano non ha la forza di far valere le sue leggi anche di fatto, le sue leggi non sono più dritte, sono sogni di un impotente, come sarei io se mi mettessi a dire che voglio legiferare quando non ne ho finito. E non avrei neppure il riso di farlo. E se cercassi di imporre questo mio diritto evidentemente violerei anche il diritto. Allora, il potere deve avere il potere di farsi valore. Il diritto ha bisogno della forza, ma se il diritto si riduce a questo fatto, a questa condizione sia pure necessaria della sua stessa giuridicità, allora il diritto scompare. In questa situazione i giuri e i consulti si trovano in difficoltà per conciliare questi due aspetti. E infatti di fatto la conciliazione non è mai perfetta. la conciliazione il despota, il tiranno, lo strongman, l'uomo della provvidenza, tutti questi nomi hanno sempre un aspetto al tempo stesso provvidenziale e infernale come si diceva la famiglia. Perché provvidenziale? perché senza questa forza di instaurarsi gli uomini non potrebbero convivere e non potrebbero quindi produrre anche spiritualmente, diciamo. Non potrebbero convivere in senso forte non solo di vita biologica. D'altra parte è inevitabile che chi detiene questo potere sbagli in buona o in cattiva fede. quindi non si può pretendere a una soluzione definitiva ma si può pretendere che le due dimensioni della legge vengano conosciute e vengano tenute in conto e l'una non cerchi di cancellare l'altra altrimenti si ha o una un dispotismo delle persone o un dispotismo ancora peggiore il dispotismo delle idee spesso di fatto non si genera astratte dell'astrazione di fatto spesso non si distinguono questi due poteri Stalin era un dittatore personale o un dittatore di un'idea ma certamente con Robespierre che è il primo che riesce a instaurare per poco tempo una vera e propria dittatura delle astrazioni bisogna riconoscere che arriva ragione Robespierre quando diceva io non sono un despotismo io sono semplicemente il rappresentante dell'essere supremo però come diceva Calvino e lo diceva qui a pochi passi da noi diceva io sono la bocca di Dio e non aveva nessuna carica politica ma pretendeva che le autorità politiche dispassessero quello che lui diceva cioè vedete in questo in questa ambiguità tra la disputismo delle idee e disputismo della persona vedete una cattiva copia del profetismo e nel nostro secolo noi abbiamo subito per decenni per quasi tutto il secolo i disastri di questo profetismo che a volte approfittava della della sua chiamiamola ideologia per instaurare una dittatura personale tra volte invece poneva una dittatura al servizio dell'ideologia ma con risultati ancora più per oggi mi riguarda i sottoporti tanto da rimanere sempre a Ginevra io farei risalire questo inconveniente cioè l'inconveniente se è iscritto in questa stessa antinomia del diritto ma farei risalire le sue conseguenze più gravi che si manifestano poi nel nostro secolo a un ginevrino a Gia Gia Crousseau che teorizzò il concetto di una volontà generale e teorizzò la legge come il voluto di questa volontà